Foggia TV Sei arrabbiato per la bolletta salata? È solo colpa tua! Basta scegliere Itala Energia, luce e gas per ritrovare la serenità. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Avrai un consulente sempre a tua disposizione e uno staff di professionisti pronti a supportarti. Scegli Itala Energia. Itala Energia, luce e gas. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo. La più cordiale buona settimana a voi tutti che anche oggi avete scelto di seguire il telegiornale di Foggia TV sul 99 del Digitale Terrestre. Titoli di apertura. Il capo della polizia Foggia, in ricordo degli agenti caduti. Giannini legittima lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Tutolo torna in piazza. A Bari non mi ascoltano. Il consigliere regionale raduna i sindaci sulla Statale 16. Comincia la battaglia per mettere in sicurezza il tratto. Foggia Sansevero. L'addio a Franco Di Giuseppe. La politica è in lutto. Esponente di lungo corso. Il vuoto è incolmabile. Fine rodaggio. Foggia pronto per cominciare. La prima è mercoledì ad Andria. Parola di Zednek Zeman. Oggi a Foggia il capo della polizia, Lamberto Giannini, ha partecipato all'inaugurazione di una stele dedicata ai caduti della Polizia di Stato e all'intitolazione del piazzale della Costura agli agenti deceduti in servizio. Il capo della Polizia ha presenziato anche alla intitolazione della nuova sala crisi multimediale destinata alla gestione di situazioni emergenziali, alla memoria delle guardie di pubblica sicurezza Nicola Fumarulo e Antonio Gentile, morti nel 1956 nell'adempimento del proprio dovere. Nostro servizio con Angelica Dandola. Inaugurata questa mattina dinanzi alla Questura della Polizia Foggia, la stele dei caduti che racconta la memoria di ogni agente in servizio che ha perso la vita per la propria patria. Vite di eroi anche dopo la morte, vite spezzate. A scoprire il velo che ha coperto la stele il prefetto Carmine Sposito, il capo della Polizia Lamberto Giannini e il commissario del Comune di Foggia, Marilisa Magno, che definisce la stele un forte segnale importante e funzione per le vittime di mafia e per la difesa di valori di legalità e giustizia. Giornata particolare e testimoniata dalla presenza di tante autorità per celebrare un rito importante con nomi che dal 1956, dall'articolazione delle BR fino ad oggi, hanno lavorato per la tutela della collettività, come Antonio Gentile e Nicola Fumarolo, feriti e deceduti durante un controllo a Cerignola da due malviventi che hanno aperto il fuoco. A loro dedicata la sala crisi multimediale, destinata alla gestione di situazioni emergenziali di rilievo, presenti il sindaco Miglio di Sansevero, il vicepresidente alla regione piemontese e il presidente della provincia Gatta, tra gli ospiti anche il procuratore Vaccaro, a cui sono andati ringraziamenti, insieme ad altre autorità come il rettore dell'Università di Foggia Limone, gli imprenditori vittime di estorsioni e i dirigenti delle strutture sanitarie private, terminando con la benedizione della corona da parte dell'arcivescovo di Bovino, Monsignor Vincenzo Pe. Io penso che la Polizia di Stato stia facendo molto insieme alle altre forze dell'ordine e continuerà a farlo, perché poi anche questi provvedimenti non arrivano così casualmente, ma sono in seguito di attente indagini e di attente attività. Io quello che posso assicurare è che la Polizia di Stato, sempre, così come le altre forze di Polizia, continueranno in un'opera di contrasto, in un'opera attente, vicino ai cittadini onesti, per stare vicini ai cittadini onesti e per riuscire a garantire a tutti le condizioni di sicurezza e poi sicurezza significa libertà. Il ricordo dei caduti dunque in servizio nel piazzale della Questura di Foggia. vite spezzate, vite spezzate anche sul tratto di strada della Statale 16 Foggia-San Severo. Questa scia di sangue si deve fermare e per fermarla bisogna fare i lavori di sicurezza. C'è un progetto di adeguamento da tantissimi anni, è bloccato. Questo progetto però non soddisfa completamente le attese. Il consigliere regionale Tutolo ieri mattina ha ripreso la battaglia per il raddoppio del tratto di strada e naturalmente ha lanciato l'appello alla classe dei parlamentari eletti in Capitanata, al prefetto e all'ANAS, perché poi è l'ANAS che deve realizzare il progetto. Naturalmente è investito anche il presidente della provincia, Nicola Gatta. Allora, vediamo il ritorno del consigliere Antonio Tutolo nelle piazze, in questo caso sulla strada Foggia-San Severo. E' nato nelle piazze, tra la gente, e anche oggi chi ha i galloni del consigliere regionale scende in piazza, tra la gente, perché in via Gentile, quando parla e dice che la Capitanata è abbandonata, non lo sentono. Noi chiederemo degli incontri con i parlamentari del territorio per esporre le questioni che riteniamo siano assolutamente urgenti per questo territorio e speriamo che loro se ne facciano carico. E' l'inizio questa, questa manifestazione, forse qualcuno non ha capito che non è oggi si conclude qualcosa, no, oggi comincia qualcosa, oggi comincia la mobilitazione della Capitanata, perché non è possibile che siamo l'ultima provincia d'Italia, ma non abbiamo le condizioni orografiche, le condizioni meteorologiche, condizioni anche economiche, oserei dire, il potenziale che abbiamo è enorme, soltanto che non ci viene data la possibilità di esprimerlo. La vera battaglia per il tratto Foggia-San Severo della Stattale 16 è cominciata ieri. L'obiettivo è portarlo in sicurezza, come la Foggia-Cerignola. La nostra richiesta è quella che ci siano degli investimenti per delle infrastrutture adeguate, simili a quelle che sono state realizzate sulla Foggia-Cerignola. Quindi le due corsie per ogni senso di marcia con lo spartitraffico e la complanare per soddisfare anche le esigenze dell'agricoltura. Tutto lo sulla Foggia-San Severo ieri mattina ha radunato anche i sindaci del territorio provinciale. Fa la sintesi, il sindaco di Bovino. È il momento di svegliarsi. Io come sindaco di Bovino sono qui a testimoniare la presenza mia, della mia terra, i miei concittadini e dell'intero territorio dei Monti Dauni. Speriamo che chi deve ascoltare ascolti e finalmente si prendano i provvedimenti che si devono prendere. L'appello è ai parlamentari eletti in Capitanata, ma soprattutto ai vertici dell'ANAS per rivedere e realizzare il progetto della sicurezza. Quello che c'è, già finanziato, non prevede spartitraffico e doppia corsia. L'appello va anche al prefetto e al presidente della provincia, Nicola Gatta, che ha competenze sul piano di bacino dei trasporti. Ieri mattina non sono mancati quelli del Movimento 24 Agosto, che da tempo sono sul fronte della battaglia. Ci aspettiamo un riscontro con la richiesta di incontro fatta alle istituzioni per fare in modo che la Capitanata, nella sua interezza, utilizzi le risorse stanziate da anni per le opere infrastrutturali, da quelle per la mobilità, passando per quelle idriche e culturali, per poter dare una prospettiva di sviluppo per il nostro territorio, per i nostri disoccupati, per rilanciare il sistema produttivo che ha necessità di questo colpo di reni, che le infrastrutture con i loro stanziamenti possono dare. Per mettere in sicurezza il tratto della statale Foggia-San Severo c'è un progetto, lo ricordiamo, di 126 milioni e mezzo di euro. È stato inserito nel contratto di programma 2016-2020, definito tra ANAS e MIT, ed è stato annunciato quattro anni fa in un convegno nella città di San Severo. A seguire l'iter adesso sarà il nuovo commissario di ANAS. L'ingegnere Vincenzo Marzi assicura che la progettazione definitiva ha avuto esito favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Mancherebbe soltanto la valutazione della conferenza dei servizi, ma, lo ricordiamo, il progetto va rivisto perché non prevede la doppia corsia. Per questo tutto lo ieri ha dato inizio alla battaglia per la statale 16. Sicurezza sulle strade, ma anche più sicurezza in città, nella città capoluogo di provincia. E qui abbiamo dei problemi legati a pochi uomini nelle strade. Una coperta corta, se la tiri da una parte e ti scopri dall'altra. Un detto ricorrente, quando si vuole sottolineare che quanto si ha a disposizione non basta per far fronte alle esigenze quotidiane. È il caso della Polizia Municipale di Foggia, che quotidianamente deve fare i conti con numerosi servizi, tra eventi, tribunale, controlli in diversi settori e tanto altro ancora. Se ci metti il personale per gestire gli uffici e di vari turni di ferri e riposo, la coperta diventa molto, ma molto corta. Nonostante gli sforzi del comandante delle noci e dei responsabili dei servizi, la situazione è sempre più complessa, tanto che diventa un problema quando si registra un incidente e contemporaneamente viene chiesto l'intervento della Polizia Locale, un tempo conosciuti come Vigili Urbani, in un'altra zona della città. Siamo a Foggia, che con una urbanizzazione dilatata è steso i suoi confini imponendo la copertura dei servizi, come ad esempio quello dei mezzi pubblici o dei controlli delle forze di polizia. Il risultato è che se ti muovi nel fine settimana nell'isola pedonale del capologo Dauno, tra l'incrocio di Corso Garibaldi e Piazza Gavur, diventa un miraggio incrociare un agente di polizia locale. E così bisogna fare i conti con monopattili e biciclette che invadono l'unico luogo dove la passeggiata dovrebbe essere libera e sicura, soprattutto per i bambini. Siamo passati da vedere la carovana di auto parcheggiate dalle forze dell'ordine nell'isola pedonale per dare un segnale di sicurezza al servizio di contatto con i carabinieri di quartiere sempre presenti e disponibili. In una città dove dilaga l'anarchia assoluta sarebbe il caso di mettere nelle condizioni la polizia locale di svolgere il ruolo a cui è stata designata. Altrimenti l'aspettativa di poter vivere la città senza auto parcheggiate in doppia fila o sui marciapiedi oppure del venditore abusivo o ancora delle corse dei monopattili nell'isola pedonale diventerà solo un sogno irrealizzabile. Restiamo a Foggia, sono stati completati i lavori in piazza Aldo Moro soddisfatti i ragazzi della parrocchia San Guglielmo e Pellegrini che hanno partecipato ad un bando. Ieri pomeriggio l'inaugurazione. Dalle politiche giovanili di cantiere giovani alle mani sporche di vernice i ragazzi della parrocchia di Santi Guglielmo e Pellegrino spinti da un progetto finanziato può nascere un fiore ma anche da tanta buona volontà ieri hanno consegnato alla comunità Piazza Aldo Moro con un volto nuovo. Rigenerare Piazza Aldo Moro era un desiderio di noi ragazzi della piazza proprio abitiamo nelle zone limitrofe di Piazza Aldo Moro e l'incuria e il degrado che accomunano questa piazza da tanto troppo tempo ci ha portati a scendere davvero in piazza materialmente e a fare qualcosa di bello. Giù il velo dalla targa intitolata al celebre statista con l'auspicio che può nascere un fiore non si fermi soltanto a questa iniziativa ma diventi uno stimolo per altri ragazzi di realtà simili. E' una cosa bellissima perché sulle pagine social ci hanno chiesto in molti come poter attuare questo progetto questo progetto è stato finanziato cofinanziato dal ministero del lavoro e dalle politiche sociali e proprio lo Stato che ci dà la possibilità di poter rigenerare le aree urbane quindi ci auguriamo che molti possano seguire l'esempio. Costruire qualcosa di bello in questa città si può basta sporcarsi le mani talvolta. Tanta contestazione per le politiche sociali qualcosa di buono in questo caso in piazza Alduomoro lo hanno fatto. Lottava dal 27 luglio nell'ospedale di Chieti ricoverato dopo il terribile incidente in cui morì sul colpo il fratello Egidio. Non ce l'ha fatta Franco Di Giuseppe si è reso dopo due mesi di sofferenza politica in lutto per la perdita di un personaggio di grande spessore sempre protagonista e punto di riferimento dell'area moderata. Lui più di tutti era l'ADC lo scudo crociato sul petto se lo cusì appena nato e con lo scudo crociato costruì il suo profilo consigliere comunale provinciale, regionale assessore, parlamentare della Repubblica Italiana una scalata prestigiosa una vita dedicata alla politica è una parola per condire e caratterizzare la sua missione l'equilibrio in tutte le forme e in ogni momento anche in quelle più difficili quando negli anni 90 sepolta l'ADC fu investito dalla Tangentopoli per poi aspettare con l'equilibrio 18 anni e sentirsi dire dai giudici della Suprema Corte di Cassazione che lui Franco Di Giuseppe nel castello accusatorio della corruzione era un estraneo. mai rinnegate le origini democristiane poste in ogni rinascita con la forza della passione dell'appartenenza principale esponente dell'area moderata costruttore di movimenti e partiti l'uomo dalle sfide impossibili come l'ultima vinta con fratelli d'Italia che voleva ancora gustare nel panorama della politica il voto che lascia l'onorevole Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe è incolmabile Ad inizio settimana facciamo sempre l'aggiornamento sulla diffusione del Covid e qui troviamo un netto calo dei contagi sia in Puglia che in provincia di Foggia rispetto alla settimana precedente e dunque vediamo il netto calo dei numeri in Puglia l'ultima settimana 986 la settimana precedente 1207 ecco il segno meno 221 nuovi casi positivi al Covid in meno segno meno anche in provincia di Foggia l'ultima settimana 143 nuovi casi positivi in totale in sette giorni la settimana precedente 183 e dunque abbiamo una differenza di meno 40 adesso anticipiamo la pagina sportiva tra poco ci sarà in studio Fabio Lattuchella per tutti i particolari della domenica di calcio vissuta allo stadio Zaccheria il Foggia ha affrontato la Juve Stabia e ha pareggiato per una rete a zero è riuscito a rimontare è piaciuta la partita molti dicono attratti altri soddisfatti l'importante è che sia piaciuta a Zeman e al tecnico Zeman la squadra ieri è piaciuta ha disputato secondo il tecnico una buona prestazione ha offerto una buona prestazione Zeman subito dopo la partita ha detto che adesso il rodaggio è finito e che il campionato del Foggia comincerà ad Andria sarà forse un azzardo o un modo per responsabilizzare i suoi calciatori i suoi uomini spesso hanno sentito dire da altre voci che per metabolizzare gli schemi di Zeman ci vuole tempo ora il boemo mette un punto e va a capo il trailer è finito che per noi il campionato deve cominciare mercoledì il campionato del Foggia dunque comincia mercoledì fine del rodaggio il primo ciac ad Andria la squadra dopo l'1-1 con la Juve Stabia è pronta ma io penso che abbiamo fatto la miglior partita se contro la Juve Stabia c'è stata la migliore prestazione la strada è intrapresa allora è quella giusta lo dice il regista c'è da credergli può sfuggire qualche dettaglio agli attori ma al regista no e se Zeman si è caricato di questa responsabilità puntando tutto sui 90 minuti di Andria vuol dire che ha già in mente i correttivi da portare agli schemi offensivi con l'obiettivo di trasformare quegli errori nella rifinitura agli attaccanti e rendere gli stessi avanti i rossoneri maggiormente cinici sotto porta tutti in avanti come piace a lui costi quel che costi l'analisi del momento rossonero da noi è dettagliata tra poco Fabio Lattuchella con la rubrica sportiva del lunedì eccolo pronto e poi questa sera saprete c'è Lello Scarano con Zafò ma adesso la linea va a Fabio per tutto il momento rossonero prosegue con lo sport il nostro notiziario ben trovati è lunedì e quindi non può che esserci l'analisi della gara della domenica del Foggia gara che abbiamo ampiamente seguito in diretta ieri dallo Zaccheria con la nostra kick off e quindi con Tiziano Enrichiello i suoi ospiti in studio e tanti collegamenti dallo stadio Pino Zaccheria e poi naturalmente l'ampio post gara dove abbiamo sentito anche le dichiarazioni di mister Zeman ed è proprio da lì che partiamo perché il Foggia è pronto è pronto a cominciare il suo campionato Zeman è stato chiarissimo il campionato del Foggia comincia mercoledì con il torno infrasettimanale quindi prima di tuffarci in quella che è l'analisi del momento andiamo a rivedere insieme con Tiziano Enrichiello quello che è successo nella partita di ieri il più bel Foggia di questa stagione impatta allo Zaccheria contro la Juve Stabia dell'esperto Walter Novellino scesa a Foggia con l'intento di proseguire nella sua imbattibilità in questo campionato le Vespe Stabiesi hanno sin da subito irretito la manovra dei ragazzi di Zeman chiudendo i varchi soprattutto sulle fasce dove sono mancati i rifornimenti al centro per la testa di Ferrante i rossoneri hanno sofferto l'avversario soprattutto nel primo tempo con i gialloblu che hanno colpito a metà della prima frazione di gioco con un diagonale di panico che ha sorpreso Alastra la ripresa tutta di marca rossonera con Rocca e compagni che hanno dapprima raggiunto il pareggio con Nicoletti e poi provato più volte a sorprendere la retroguardia ospite che ha retto bene l'urto degli avanti rossoneri si è giocato su un terreno in non perfette condizioni in un pomeriggio caldo che ha costretto il direttore di gara a concedere per ben due volte il culinbrecca le due formazioni il Foggia si rende pericoloso al quarto d'ora con Merola che sulla fascia destra prova il tiro e trova Sarri pronto a deviare in angolo un minuto dopo sempre Merola conclude centrale para Sarri indisturbato al ventitresimo Juve Stabia in vantaggio ripartenza ospite e palla sulla destra per Panico che in diagonale davanti ad Alastra lo fulmina sul palo alla sua destra partita in salita per gli uomini di Zeman che un minuto dopo vanno vicinissimi al pareggio con Merola che colpisce il palo e sulla respinta chiama Sarri alla deviazione salva risultato al 34esimo Foggia ancora pericoloso con un'azione che si sviluppa sulla sinistra laddove Ferrante chiama la corrente Curcio alla conclusione da ottima posizione ma il fantasista manda malamente fuori tra i fischi dello Zaccheria nel finale di primo tempo un colpo di testa di Tonucci alto e una conclusione di Rocca a lato nella ripresa dopo 5 minuti Merola la migliore prestazione in rosso nero la sua pesca Ferrante la cui conclusione viene bloccata dalla difesa campana 57esimo ancora Foggia pericoloso con un cross di Nicoletti e Ferrante viene anticipato da un difensore al momento di colpire 6 minuti più tardi l'eurogoal di Nicoletti azione elaborata dei rossoneri e servizio sulla sinistra per Nicoletti che lascia partire un fendente che si va ad insaccare nel 7 alla sinistra di un incolpevole Sarri esplode di gioia lo zaccheria per la prodezza dell'esterno di difesa migliore in campo tra i rossoneri ieri pomeriggio e non solo per la rete realizzata insiste il Foggia che al 77esimo con Peterman dalla distanza chiama Sarri alla parata stessa sorte per Curcio due minuti dopo e Sarri blocca la sfera all'83esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Curcio di testa ad impegnare l'estremo difensore avversario 5 minuti di recupero accordati dal direttore di gara e privi di ulteriori emozioni pareggio tutto sommato giusto ma si è visto un Foggia nettamente migliore rispetto alle uscite precedenti che anche ieri ha dovuto fare i conti con la Dea Bendata che non sta aiutando sicuramente gli uomini di Zeman mercoledì si tornerà in campo nel turno infrasettimanale ad Andria e quindi mercoledì turno infrasettimanale ad Andria che sarà il punto di partenza del nuovo Foggia di Zeman lo sentiremo anche direttamente dalla sua viva voce lo abbiamo sentito nella prima parte del nostro notiziario ma c'è anche qualche dettaglio insomma per qualcuno che è rimasto male forse dal mancato arrivo di Crago l'abbiamo scoperto anche un altro sinistro importante quello di Nicoletti che comunque ieri è stato uno dei migliori in campo se non il migliore in campo è stato davvero sempre presente sia in fase difensiva che in fase offensiva è stato anche autore di alcuni cross importanti cross che sono mancati ieri nel corso della partita però qualcuno Nicoletti interessante lo ha fatto interessante anche la prova di Merola che è stato sempre molto attivo sulla destra poi è entrato Mercai nel finale forse troppo tardi ma naturalmente queste sono state le scelte del tecnico andiamo a vedere quelli che sono i risultati è la classifica alla luce di questa quinta giornata di campionato che ricordiamo deve ancora terminare perché ci sarà il posticipo tra Catanzaro e Catania questa sera i risultati Avellino Potenza 1 a 0 Bari Paganese 1 a 1 Campobasso Fidelisandria 1 a 3 Foggia Juve Stabbia 1 a 1 Monterosi Palermo 1 a 1 Picerno Messina 2 a 1 Tarantolatina 2 a 0 Vibonese Turris 1 a 4 Francavilla Monopoli 3 a 1 con il Bari che guida la classifica la vedete sul lato destro della nostra pagina grafica Bari che guida con 11 punti davanti a Taranto e Monopoli 10 Virtus Francavilla 9 vedete le prime 4 sono tutte pugliesi di lì manca il Foggia che lo trovate a 6 punti nel bel mezzo della classifica ci sarà tempo e già a partire da mercoledì perché Zeman ha indicato la strada il Foggia inizia il proprio campionato mercoledì prossimo sentiamolo intanto partiamo che cosa non le è piaciuto dalla partita di oggi? ma io penso che abbiamo fatto la miglior partita e spero che continuiamo a migliorare anche nelle prossime e qui abbiamo fatto quello che potremmo fare magari non siamo stati abbastanza precisi sulle conclusioni ma è importante arrivare davanti se ha notato dei progressi quali sono stati oggi? io penso che la squadra ha lavorato tutta magari al centro campo bisogna svelti il gioco perché lo portiamo ancora troppo però a me la squadra è piaciuta specialmente nel primo tempo se potessimo dare delle percentuali a che punto siamo col suo progetto? l'ho già detto nello spogliatore penso che per noi il campionato deve cominciare mercoledì ricordiamo che dopo mercoledì ci sarà la gara domenica prossima in casa del Foggia contro il Messina poi partirà un vero e proprio tour de force dove il Foggia affronterà squadre del calibro di Bari Monopoli Taranto quindi derby importante quindi tutte gare davvero molto difficili per un mese di ottobre che si preannuncia complicato il campionato del Foggia però parte mercoledì lo ha detto Zdenek Zeman sull'altra panchina c'era un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano anche a grandi livelli in Serie A ci sono state tante sfide tra Zeman e Walter Novellino ascoltiamo e allora mister non è la prima volta che incontra Zeman com'è andata rispetto ad altre volte? ma delle volte vinceva spesso lui insomma ma al di là di questo credo che le nostre squadre si vedono come si gioca eccetera eccetera e allora io gli ho detto cosa ci facciamo in C lo facciamo perché siamo innamorati del calcio credo la mossa vincente della sua squadra perché Zeman lei lo conosce bene no? no conosco è chiaro che era molto importante ripartire ripartire bene noi abbiamo avuto qualche giocatore con con questioni di salute non bene stiamo recuperando ecco perché noi abbiamo avuto anche sto calo al secondo tempo però il primo tempo devo dire che è stato veramente buono che Zeman ha ritrovato non è che lo conosce da tanto tempo sempre lui voglioso determinato silenzioso però le sue squadre si riconoscono devi devi stare attenti perché se non stai attento il gol lo trova con una certa facilità è chiaro che bisogna studiarlo bisogna lavorare però è sempre il più tra virgolette il più grande dicevamo che tra i migliori in campo c'è naturalmente Manuel Nicoletti che ha suggellato con la rete questa sua ottima prestazione forse a Davide Merola ieri è mancato soltanto il gol lo ascoltiamo al microfono del nostro Lello Scarano allora un tempo ciascuno forse il risultato è quello giusto Merola no penso che comunque noi meritavamo i tre punti abbiamo fatto una buona partita una delle migliori da inizio campionato peccato per i tre punti che non sono arrivati ma siamo contenti della prestazione che c'è stata il mister diceva tutti i gol vanno bene perché sbloccano le partite ma vorrebbe vedere più gol dentro l'aria e quindi con sua azione manovrata ci state lavorando a che punto siete? il mister c'ha ragione perché ci arriviamo tante volte sotto porta ma manca la cattiveria e la voglia di fare gol solo facendo più gol degli altri e quindi si vincono le partite Davide Merola deve ancora segnare in maglia rosso nera chiudiamo il capitolo dedicato alla serie C e quindi alle vicende del Foggia e prima di dare la linea ad Antonio Villani che ci racconterà con la sua spazio dilettanti news tutto quello che è successo dalla serie D in giù partendo naturalmente dalle vicende del massimo campionato nazionale dilettantistico dove il Cerignola ieri è impattato sul campo del Molfetta uno a uno naturalmente andiamo a rivedere dicevamo prima di dare la linea ad Antonio Villani andiamo a rivedere i titoli dei maggiori argomenti che abbiamo trattato quest'oggi il capo della polizia Foggia in ricordo degli agenti caduti Giannini legittima lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose tutto lo torna in piazza a Bari non mi ascoltano il consigliere regionale raduna i sindaci sulla statale 16 comincia la battaglia per mettere in sicurezza il tratto Foggia Sansevero l'addio a Franco Di Giuseppe la politica è in lutto esponente di lungo corso il vuoto è incolmabile fine rodaggio Foggia pronto per cominciare la prima è mercoledì ad Andrea parola di Zednek Zeman è tutto vi lascio ad Antonio Villani e Spazio Dilettanti News grazie per l'attenzione sei arrabbiato per la bolletta salata è solo colpa tua basta scegliere Itala Energia luce e gas per ritrovare la serenità prezzi sempre bassi e bollette trasparenti avrai un consulente sempre a tua disposizione e uno staff di professionisti pronti a supportarti scegli Itala Energia Itala Energia luce e gas prezzi sempre bassi e bollette trasparenti per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità sempre con grande rispetto per l'ambiente Divella passione mediterranea nel mondo